Non c'è pace per il personale medico del pronto soccorso, sempre più indifeso davanti ad aggressioni gratuite da parte di pazienti, parenti e squilibrati. L'ultimo caso si registra a Nocera Inferiore, dove una dottoressa, Antonella D'Alessandro, 51 anni, è stata aggredita nel proprio ufficio all'Umberto I da un uomo, forse in preda all'alcol. Il medico è stato ferito al naso e all'occhio ed è stato curato dagli stessi operatori del pronto soccorso. Sul posto, immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per capire i motivi della vile aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico era intento a suturare la ferita di una ragazza, quando sarebbe stata avvicinata e aggredita senza un motivo da un giovane di Pagani. I colleghi del pronto soccorso hanno immediatamente chiamato i carabinieri, che hanno identificato il ragazzo che ora rischia una denuncia.